Sul palco oggi fondamentalmente ci sono io. Io mi trovo ad avere due vite, forse tre, nel senso che faccio l'insegnante, insegno matematica e fisica al liceo, sono un giocogliere professionista da 23 anni, quindi lancio roba, e sono attore, ho fatto un'accademia teatrale. Oggi mischio insieme le tre cose, cioè tramite il teatro spiego la fisica tramite i giocoglieri e ciò che si può fare con la giocoglieria tramite la fisica. Ho sempre fatto cose che mi piace fare e ho avuto la fortuna di poterle portare avanti e mischiarle insieme e anche questa è stata una fortuna per me.